Allora, ciao a tutti e ben ritrovati, quinto appuntamento con le mie video recensioni video recensioni che stavolta mi vedranno presentare un'opera, anche questa uscita parecchio tempo fa di un autore coreano, eccola qua, passo subito a presentarvela si tratta di Rainbow, come potete ben vedere allora, il titolo come detto in precedenza è Rainbow, l'autore è Kim Jae-Hwan sperando di averlo pronunciato correttamente il numero di albi è 5, la casa editrice La Planet Manga il periodo di uscita è di marzo 1998 ed è stato finito di pubblicare a luglio dello stesso anno costava all'epoca 3.500 lire, attuali 1,80 euro circa due parole sul disegno, allora il disegno è ben curato, graficamente ben definito niente sbavature, niente linee grezze c'è un'ampia varietà di armi, di nemici, di armature i nemici sono anche molto imponenti tutti ben caratterizzati e ben diversificati tra di loro quest'opera Rainbow è stata accostata all'opera di un altro autore coreano sto parlando di Shoma, un altro manga datato 1997 la differenza sostanziale è che Shoma praticamente è stato stroncato da pubblico critica, insomma da chiunque sapesse leggere cioè io non ho mai visto parlare così tanto male di un manga in vita mia vabbè dai parentesi chiusa, torniamo a Rainbow due personaggi principali sono Gaia Gaia, che è un adolescente, un maniaco, un po' pervertito all'assitianter giusto per darvi un'idea un po' megalomane, si crede l'eletto dei cieli come ama definirsi lui è abilissimo con la spada, è molto audace, molto spavaldo spesso sconsiderato, infatti si lancia in battaglia senza troppe esitazioni lo accompagna Nikki, una splendida ragazza amica di infanzia di Gaia anche lei abilissima nel combattimento corpo a corpo è molto più riflessiva e meno megalomane gli fa da scorta Artie, no Arthur che un android è programmato per ritrovare e riattivare i poteri sopiti dei guerrieri Rainbow è molto molto dedito la sua missione, si immola per la causa una pecca, purtroppo i guerrieri sono 7 è stato dato molto risalto a questi due principalmente gli altri sono marginali, forse troppo sono stati caratterizzati nel loro minimo essenziale però ripeto, sono solo 5 volumi questo penalizza un po' quest'opera che comunque è godibile due parole sulla trama allora in sintesi Nikki e Gaia incontrano un robot Arthur o Artie dirà loro di essere un Rainbow Metal Ranger incaricato di ritrovare 7 guerrieri prescelti i 7 guerrieri Rainbow appunto che sono l'ultima speranza per combattere le forze del male la trama non è proprio il massimo dell'originalità mettiamolo comunque la trama l'opera di per sé è molto molto piacevole molto scorrevole da leggere non mi dilungo troppo in ulteriori dettagli perché non voglio rovinarvi la lettura ripeto per l'ennesima volta sono 5 volumi li leggete subito una pecca che ho riscontrato è che negli ultimi due volumi si ha una sorta di accelerazione narrativa i primi tre numeri sono ben curati ben sviluppati in ogni suo dettaglio in ogni suo particolare gli ultimi due quando si tratta di combattere i cattivi insomma si tratta di battaglie decisive insomma non c'è l'autore non ha lasciato troppo spazio a queste battaglie e anche qui è una pecca che penalizza quest'opera mi spiace dirlo ma nessuno è perfetto quest'opera almeno per quanto mi riguarda ricorda vagamente alla lontana i 5 samurai o i samurai troopers sia per la presenza di armature sia che per i nemici perché se vogliamo ci sono degli emissari del male che ricordano alla lontana i vari demon, rasta, crane e kratos che sono gli emissari di arago dell'opera dei 5 samurai in rainbow sono contenute anche delle gag delle scenette per dare un po' di humor di ironia per alleggerire anche i momenti di tensione di drammaticità dell'opera sono carine però insomma stonano un po' con il resto dell'opera poi ripeto ad ognuno la sua opinione consigliato a tutti senza restrizione senza limiti di età soprattutto a chi piace il genere fantasy e di fantascienza il genere me qua è quello con robottoni o armature stavolta iper tecnologiche ripeto la trama non è il massimo dell'originalità però se volete un'opera un'opera alternativa sconosciuta in più direi che fare uno sforzo per recuperare quest'opera vecchia ripeto è del del 98 direi che ne vale comunque la pena dello sforzo dello sacrificio del sacrificio che state andando a fare dai detto questo chiudiamo qua spero che questa mia quinta recensione vi sia piaciuta non mi dilungo troppo dai alla prossima